Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il giovane tennista italiano Gianni Ksinner ha conquistato la sua prima semifinale agli US Open battendo Daniel Medvedev e dimostrando di essere in gran forma. Ma non è solo il suo talento sul campo a far parlare di sé, ma anche la sua relazione con la fidanzata Anna Kalinskaya. Le voci di una crisi tra i due sembrano essere state smentite durante l'ultima partita agli US Open, dove Anna Kalinskaya era presente sugli spalti a tifare per lui. Questa presenza ha dissipato i dubbi e le indiscrezioni sulla presunta rottura tra i due. Qualche settimana fa era circolata la notizia di una presunta separazione tra Gianni e Anna, con i due che avevano smesso di seguirsi sui social. Tuttavia, la presenza di Kalinskaya agli US Open e il suo supporto al fidanzato sembrano indicare che la tempesta sia passata e che la coppia stia vivendo un momento di tranquillità dopo le turbulenze. La vittoria di Sinner contro Medvedev e la presenza di Anna Kalinskaya agli US Open sembrano aver rafforzato il legame tra i due e dissipato le voci di crisi. Ora la coppia sembra più unita che mai è pronta a affrontare insieme le sfide che il futuro potrà.